Capitolo 1 Uno strano lavoro 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 Finalmente il confessionale è libero, bisogna rispogarlo un po'. Da quando quella stinca di santo è venuta ad avventare l'appartamento del caro più defuto, Ovidio ha la testa da un'altra parte. L'esplosione necessita di un piano. Ovidio non è più lo stesso da quando quell'inquiline entra da far parte del palazzo. Sì, mia! E cosa mi chiami quest'ora di notte, a un momento in seguito il palazzo? No, non sono a casa, sono in ascensore. Ma cosa ci faccio in ascensore? Esigenze di popolo. Guarda, hai visto un film che faceva il caso mio? Spiriti Dornar di là. Oddio, oddio! Adesso ho capito perché devi accendere! Ma che basta due minuti da sola con se stessa e devi avere un attacco di pane! Perchè siete chiusi in ascensore? 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 Non dovremmo mai essere costrette a raccontarti certe cose. Eh, ma lo facciamo per il tuo bene! Prima che sia troppo tardi! E quando sono con il tuo braccio sento che niente di brutto può accadermi! Ok! Esatto! Non ho parone! Ma poi! Ma credate che non mi abbia ancora! No! No! Guarda che io! Io no! Sennete questo! Ma certo! E' che doveva furbo vengarsi da vivere in qualche modo! Ok, voglio proprio vedere dove sono questi famosi spiriti! Calma di videocampe! La prima, chiudo le porte e taglio i figli di questo maledetto ascensore che mi ha dato Un figlio! Ancora comunque l'incubo della scienza!